Adesso è un romanzo d'amore, ma nel senso proprio che è sull'amore. Io ho provato a mettere questi due protagonisti, Lidia e Pietro, come in un laboratorio, come due topolini, a tentare di capire che cosa ci succede quando ci innamoriamo, ma soprattutto quando ci innamoriamo e non è la prima volta e siamo già stati feriti dalla vita e siamo stati già traditi dall'amore. Abbiamo scoperto che fra le sue infinite caratteristiche ne ha una, l'abbiamo provato sulla nostra pelle, che è quella tremenda del fatto che può finire. È abbastanza evidente come quando si incontrano due persone, non si incontrano mai solo due persone, quando si innamorano due persone, siamo un esercito perché ci sono i genitori, i nonni, le persone che abbiamo amato, quelle che ci hanno rifiutato, quelle che ci hanno fatto soffrire, i fantasmi. Quindi sembra un incontro a due e invece è una specie di rave. Problemi familiari, influenza, lutto. Perché sulle giustificazioni per saltare un giorno di scuola, sui cartelli appesi alle saracinesche abbassate, non appare mai scritto innamoramento? Adesso è una parola magica. Io credo che gli adesso, nelle vite delle persone, non siano poi così tanti. Sono quei momenti dopo i quali tu hai la grande occasione, però anche ti tocca farlo, di cambiare. È vitale cambiare, veniamo al mondo per evolvere, però fa paura. Credo che sia adesso fondamentalmente in tre casi. Quando qualcuno che amiamo muore, quando qualcuno nasce e io credo che anche quando ci innamoriamo. Questo racconta il libro, diciamo, racconta adesso, nel libro sta a rappresentare un innamoramento. E a me, devo dire, sono successe tutte e tre le cose. Quando ho scritto il libro non sapevo che cosa significasse adesso perché nasce un figlio. Invece adesso so anche questo. Leggere ad altavoce, soprattutto alcune pagine di questo libro, che è un libro poi sul coraggio e l'incoscienza che ci vuole per accettare le proposte che ci fa la vita. Beh, insomma, leggerlo ad altavoce mi ha toccata molto. E credo, spero, che possa essere interessante anche ascoltarlo. Interessante è una parola fredda. Spero che possa, siccome di emozioni che si parla, emozionare. Senza dubbio io credo che la mia voce possa consegnare a un lettore ancora di più l'intenzione e tutto il grumo di vita vissuta che c'è dentro a quello che scrivo.